La tanto attesa fumata bianca per quanto riguarda il piano di riordino degli ospedali non c'è stata. Se giorni fa il salvataggio degli ospedali minori della nostra regione sembrava ormai quasi cosa fatta, adesso bisogna attendere almeno altri sei mesi per sapere quale sarà il futuro della sanità abruzzese. Ma andiamo con ordine. Ieri l'assessore alla sanità Nicoletta Verì a Roma presso il Ministero ha ricevuto innanzitutto parere positivo per quanto riguarda i bilanci degli anni precedenti 2017 e 2018, constatando l'equilibrio del sistema sanitario regionale ed un nuovo punteggio per i livelli essenziali di assistenza ILEA che si attestano sui 207 punti, cioè molto buoni. Sempre nella capitale l'assessore ha dovuto però incassare la nota negativa per quanto riguarda i conti del primo trimestre del 2019 che a detta proprio dell'assessore dovranno essere ben valutati e che la regione stessa ha già attenzionato i pilastri su cui agire tra cui la spesa beni servizi, la spesa farmaceutica, la mobilità passiva delle ASLE, istituendo dei gruppi di lavoro facendo ricorso alla legge 79 che permetterà alla regione un controllo gestionale e programmatorio sulle aziende sanitarie. Ma torniamo a parlare di quello che nei giorni scorsi aveva fatto ben sperare gli utenti dei piccoli ospedali delle aree interne. Infatti sempre a Roma nella giornata di ieri è arrivata la notizia che per il salvataggio dei piccoli ospedali della nostra regione, Penne, Popoli sul Mona Ortona, Tessa Castel di Sangro e Guardia Grele, bisogna aspettare almeno sei mesi prima che il tavolo di monitoraggio del Ministero dell'Economia e della Salute di il via libera al riordino. Infatti nessuna risposta seppur minima è stata data anche dopo la presentazione della bozza del piano di riordino. Sarà lo stesso per la nascita del DEA di secondo livello e per i super ospedali di Chieti Pescara e l'Aquila Teramo. Intanto polemiche sulle mosse della maggioranza giungono dai consiglieri regionali di minoranza. Durante la seduta infatti la consigliera marsicana dell'Udc Mariana Scocia insieme alla collega leghista Antonietta Laporta ha presentato una risoluzione per perorare la causa del DEA di primo livello del nosoccomio sul Monese. Immediata la reazione dei consiglieri terramani di centrosinistra Dino Pepe e Sandro Mariani, i quali hanno chiesto spiegazioni in merito soprattutto alla luce della situazione legata al destino dei presidi di Giulianova e Termo, quali potenziali DEA di primo e secondo livello.